Realizzare tra Firenze e Prato una superstrada ciclabile a quattro corsie, lunga quasi 10 km e lungo la quale correrà una rete capillare di altri percorsi ciclopedonali. E' questo l'obiettivo dell'intesa siglata fra la Regione Toscana, i Comuni di Firenze, Prato, Poggio Accaiano, Carmignano, Sesto Fiorentino, Campi Visenzio e Signa, la provincia di Prato e la città metropolitana. La Regione si è impegnata a cofinanziare gli interventi necessari con 6 milioni e 800 mila euro di fondi POR-FESR. Anche gli enti locali parteciperanno alla spesa. Termine dei lavori il 31 dicembre 2021. Si tratta della realizzazione di 38 km di ciclopiste che consentono di connettere importanti centri abitati che fanno parte dell'area metropolitana e anche di connettere parti di ciclopiste che sono già esistenti. La superstrada ciclabile fra Firenze e Prato passerà anche da snodi importanti come il Polo Scientifico di Sesto e il Centro Commerciale I Gigli. Noi crediamo che lo sviluppo del territorio metropolitano passi anche da investimenti inerente alle infrastrutture. Ed è un piacere parlare oggi di un'infrastruttura ciclabile, una superstrada ciclabile, che garantirà non soltanto una facile fruibilità agli utenti ma anche una maggiore sicurezza. Complessivamente l'operazione ciclopiste della Piana costerà 17 milioni di euro.